Eccoci tornati in compagnia della nostra carissima nonna Raffaella La Santa Caterina sullo Ionio Marina ci tiene a dirlo Ha già preparato la torta esotica, le frittelle di fiori di zucchine, le ricottine al forno Un'altra torta, la torta Torino è nel forno E stiamo facendo le polpette di menta, vai col procedimento Raffaella Allora abbiamo bollito le patate, sono venute prima perché vogliono fredde Bollite con sale, salate? Sì Pronto Ce l'abbiamo? Non c'è più, va bene Mettiamo i torli C'è ma non parla, pronto buonasera Pronto Simone, sono Claudia Ciao Claudia, buonasera, benvenuta E come stai Simone? Ho mangiato una ricottina, vuoi venire ad assaggiare qualcosa, Claudia? Sì, io volevo dire una cosa alla figlia Raffaella Mi dica Signora Raffaella, innanzitutto ti congratulo che siete una roba fuoco Grazie Siete una roba troppo gentile Grazie, grazie Grazie Papà la puoi salutare, alla nostra Simona Che è una ragazza meravigliosa È vero, è che da vicino ancora di più No, non è vero, meravigliosi sono i nostri chef, grazie cara Claudia, ma bravi sono loro Sì Posso fare un saluto? Eh, non lo puoi fare Non lo puoi fare Claudia, non lo posso Non lo puoi fare, non lo puoi fare Non lo puoi fare, non lo puoi fare Non lo puoi fare, non lo puoi fare Ah, vabbè, allora sì, a noi sì, va bene A Masterchef va bene Ciao Claudia, grazie Grazie mille, intanto Intanto abbiamo messo le patate che abbiamo bollito prima, le uova Solo i tuorli Solo i tuorli Nelle uova, solo i tuorli Lo zucchero Il burro E andiamo ad impastare La nostra brava nonna Raffaella, vai E i bianchi li dobbiamo montare a neve Ancora? Sì Con quell'attrezzo Eh, è logico Sempre con quell'attrezzino? Eh, che devo fare Simona? Sempre con quello Va bene Tra poco andremo a montare a neve i bianchi dell'uovo Gli albuni Ma è Raffaella Pronto, buonasera È pronto Signora, buonasera Può passare il volume del televisore, grazie Buonasera A lei Volevo dirle che io sono diviso Sì E la televisione si vede bene Bene Si sente bene Quindi quella signora forse ha un problema Lei ha la televisione Ah, forse Io sono sul fumo male Si vede e si sente bene Bene, benissimo Si sente benissimo Grazie signora Questo ci consola Ci fa piacere Va bene Buon lavoro Grazie signora Gentilissima Grazie mille Andiamo a sbattere e a montare a neve Arrivederci Grazie signora Arrivederci Controlliamo la torta La torta la controllo io Ed è in cottura perfettamente Vai Raffaella Questa sera ben due torte Brava Raffaella Sta aumentato No Aumento Ha aumentato lì con la torta Ah si sta crescendo piano piano Vai Ma tu perché non vieni a tenere qua questo che io intanto impasto Io le attrezzo infernale Ecco Così io faccio Ma sei sicura? Piccolina piccolina la menta E l'aggiungo all'impasto Niente io non ce la faccio a tagliare tutti ieri Come ben vedete sono diventata essenziale al programma Il mio aiuto è diventato fondamentale Per ogni cosa Non possono più fare a meno di me Come noi non possiamo fare a meno di te Pronto? Eh Ciao Simona Buonasera Monta, monta, monta Come va? Come stai? Sto montando gli albumi Hai visto? Sì, bravissima Grazie, grazie Almeno fa qualcosa, no? Aiuta Ma ti vuole passione nella cucina Per cui Se non hai passione È iniziale È vero, è vero E comunque voglio fare i complimenti a Nona Raffaella Grazie Io se c'è in ritardo a facere la tv Comunque non mi perdo nulla Perché domani vado su internet Brava Su internet Ho fatto delle mie ricette L'ha fatti? L'ha fatti L'ha fatti Io domani cercherò di aggiornare tutte le ricette Comunque tra poco partirò con il riepilogo Va bene? Brava Ma comunque me li vedo su internet Non ci sono problemi Ok Comunque ho visto i fiori di zucca E non lo so se la Nonna Raffaella Li fa pure ripieni Ripieni? Sì, sì Li facciamo pure ripieni Sì Con acciuga e provola Sì Con la pastella Buoni Buonissimi Sì Basta Ok Buon lavoro Grazie Ho finito Sono stanchissima Ciao Grazie Come sempre Ciao Ecco qua Aggiungiamo gli albumi Gli albumi Tu hai tagliato a pezzettini la menta La menta L'ho messa qua Se l'impasto viene un pochino morbido Possiamo aggiungere un po' di pangrattato Perché può venire morbido Pronto? Buonasera Buonasera signora Simona Buonasera a lei Benvenuto Bentrovato Mi piace Vorrei sapere la ricetta Dell'ultima Torta con le noci Io Alla fine lo dite? Sì Alla fine Tra dieci minuti Vado con il riepilogo E dico tutto Va bene? Va benissimo E la torta a Torino Grazie Molto gentile E la torta a Torino Io fra dieci minuti Faccio il riepilogo Buonasera a lei Grazie Grazie a lei Buonasera Vai Raffaella Sì Siccome Abbiamo un'altra telefonata Pronto? Sì pronto Buonasera Non c'è più Va bene È caduta? È caduta La linea Ma è nonna Raffaella Un po' di farina Un po' di Di pangrattato E dobbiamo mettere un po' di farina Per infarinarli Me le metti un po' di farina Farina bianca 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 Farina bianca? Sì Te la metto in un piatto? Sì Va bene Un pochino dove vuoi Cara nonna Raffaella Questa sera Si sta ribellando al sistema E mi sta impiegando Vero Raffaella? Abbiamo fatto tutti i piatti Grazie Ma perché c'è stato il mio preziosissimo aiuto Il tuo aiuto È logico Grazie Così è facile finire Grazie Scusa Raffaella Così è troppo semplice Prendi un piatto Oppure la portata Per metterli Nella carta Vuoi altro? Nella carta No? Va bene Ok Vedi Mi faccio fare La prova costume così Cara nonna Raffaella Prova costume Ho già smaltito la torta Ok vai Ecco il segreto di nonna Raffaella E il mio aiuto Facciamo dei bastoncini Pronto? Sì pronto Buonasera Nonna Raffaella Volevo sapere una cosa Mi dica Che ha messo tutto assieme Che non l'ho visto? Dico Patate Sì Le patate I torli d'uovo Lo zucchero Il burro E tutto assieme E la menta I bianchi I bianchi Li abbiamo montati a neve Ecco Adesso Se l'impasto Gli risulta un pochino morbido Mi aggiungi un po' di pangrattato Ah io questa volevo sapere Si ha messo tutto assieme Si Poi solamente i bianchi Ha messo Le battute dopo L'abbiamo montato a neve Si Va bene Grazie Grazie a lei Non è affatto pronta Non è pronta ancora Ah che belle Stavi dicendo di queste polpettine Che le hai fatte Le hai fatte a bastoncini Vero? Si Queste polpettine fatte a bastoncini Passate nella farina E poi fritte La menta che hai preso sempre Dal mio orto Dal suo orto Ci tiene Nonna Raffaella a dirlo Perché Dal suo orto Senza colorante Né conservante Buonasera Abbiamo una telefonata un po' alta Buonasera Dovreste abbassare il volume del televisore Quando chiamate Grazie Ma Raffaella Io sto andando Sei pronta? Si si Che belle che sono Non così